Musica Ok, allora, spero di non fare cavolate Salve a tutti ragazzi, qui è Montano Valerio E benvenuti in questo nuovissimo video, in questa nuovissima live Qui con me ci sono nove persone che non avete mai visto prima E cioè Fubuki72 Hello Poi il nostro, è sempre gentilissimo, DragoMensei Bella Il nostro carissimo amico, il SerpenteNilo3000 SerpenteOscuro3000 Scusate, SerpenteOscuro3000 E infine abbiamo Warriors909 Bella Allora, Elena io direi di partire se per te va bene Pazzimo No, va che? No È un film Fai deathmatch, oppure fai i sacchetti E infatti questo è deathmatch Fai controllo No, guarda che c'entra bocchetto Dai Non ci credo Non ci crederò mai Non ci crederò mai Manu, lo faccio? Che cosa? Tu sai che cosa, tutto l'ho fatto prima Vai No In live No 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 Feci di merdo La mafia La mafia La mafia No Elena, Elena, fammi entrare veloce Oh, oddio Stai invitata Ah, io Valerio Stai facendo in live Fate one on one in diretta Proprio La faremo La faremo La faremo Ah, la faremo quando? Quando? Quando io ormai non ci so più Ci sarai, sappio Ci sarai Ci sarai Ci sarai Se non trovi nessuno qua, fai deathmatch Allora io approfitto questa live per salutare un certo Eros Anche io Ciao Eros E' il nostro carissimo amico Tuning Danny Ciao anche se non ti conosco Vale Valerio No, Manu, dovevi mettere quella cosa Eh? Dovevi mettere quella cosa Che cosa? Manu Quanto intende il video? Manu, eh Ah, si, la voglia Poi abbiamo un super salvo E' bellissimo il rank Che rank? Il rapporto del rank Oddio Wow Io mi sa tanto che uso l'argo in questa partita Ehm, si Fantastico Valerio Mi dica Lavati Ma io mi lavo, è Antonio che non si lava Ah, vorrei fare un saluto a X-Cloudy Kill Che in questo momento non c'è perché siccome non si lavava da mesi e purtroppo la madre l'ha costretta a lavarsi quindi... Facciamo in questo momento In questo momento è sotto la doccia Ah, vai Ah, vai Gentile Valerio Io ancora non sono... Non sono arrivato a casa Quando arriva a casa mi devo fare l'anno Quindi troverai l'anno Fuori Moffa, sei idiota Il match è iniziato Tu ce ne... Già inizia ? Già vanno nel Granально Ah, ho messo fino al... Non devo partecipare Devo un attimo diminuire ok 3 1 in meno aiuto ce n'è valerio il mio bene c'è un fiero con cerchino dietro a muro valerio fa il tuo dovere col cerchino bella bella dai sono capitano a livello 3 senza aver fatto niente buono eri capitano a livello 3 ma ti cipare ma che sto da fare ma un ario tra poco morirà tra 3 ma in 2 in 2 leoporco leo cane questa live lo chiamerò io ovviamente muoio quando divento capitano minchiaelen mi ha contagiato manu questa live la chiamerò live a certe 4 live prima degli esami maier a certe 4 live prima degli esami il perché di questa cosa perché il nostro gentile Manuel farà bello farà l'esame di storia che granata ragazzi che granata però tutti head boom ciao ciao ho fottuto la kill a valerio si e tu l'hai fottuta la p hai due di là perfetto oh minchia tutti in là stanno l'ho ucciso a quello sopra valerio ladro 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 ciao Ale aiuto sono capitano livello 3 come livello ah adesso è una difesa capitano di livello 3 e muore dopo un secondo eh mentre mi sparano buggerlo volevi fortermila kill montanaro valerio una merda mano guarda seccato in mezzo seconda ovviamente dopo che capitano era l'avrata lo è sotto ma che cazzo c'è la rega fuori di faremo un salamino appena ma che cazzo da prenderla la giara ma è furba poi ma che cazzo ma trovo da tutte le parti è una cosa allucinata un po' fiero aiuto ragazzi arrivo io non so io però mai attenzione insulti da parte di Elena non permette buono ma quando sono arrivata a capitano di livello 3 io ragazzi la c nemmeno te ne accorgi attenzione montanaro con il bastone e che bastone se lo metti se lo metti non è certa non è certa facile no 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 buona che schifo no ma è la buu ok oi ragazzi hanno tutti su la buu necessario di prendere un cecchino come la no 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 ho conquistato la zona lo faccio schifo attenzione 2 3 ragazzi andiamo andiamo conquista la via oh merda oh merda no aiuto aiuto alle 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 inutili alle inutili alle non è più inutili ok qui è che spara è inutile mi stanno bombardando 3 4 sull'acqua madonna e non ci stancola nessuno a noi il capitano loro non esiste più praticamente tutto lo vedete capitano dovreste bene ci mancano 40 punti a vai a mina di nuovo sulla c eh vabbè ma lo puzza c'è peccato peccato che non c'è l'elefantino di di maceo sennò mi incuravo le zone che sono più quindi ci ha fatto un colazzo ciao vale no non posso morire infatti io non morirò chi si vede morirà warrior raga eccolo morirò io no c'era il capitano e vincere per 5 punti è lui per 5 punti è lui più forte mamma no a me mi risulta che io sono primo ma non no no sono io primo no sì sì io ti vedo con 4725 punti io con 4970 punti e poi ti faccio vedere a manina che drago non è un primo va bene dai siamo arrivati a 12 minuti dai concludiamo qui la nostra live era solamente una partita poi ne avrete altri nei prossimi giorni se il video prima di chiudere prima di chiudere la live da fiero dimmi guarda quella che ti ho inviato adesso e non mi è arrivato niente ok adesso dovrebbe essere arrivato ora sì guarda guarda la fiero a me tu guardati la live appena la metto su youtube va bene ragazzi il video si conclude qui noi ci sentiamo alla prossima con un nuovissimo video bella ragazzi bella bella ciao 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 a caso